L'anno scorso non ci siamo riusciti a giocare contro, quest'anno mi aspetto una bella partita. Non conosco tanti giocatori perché come al solito ogni sessione di mercato loro stravolgono tanto, però mi fa piacere comunque incontrare coloro che sono rimasti, quei pochi che sono rimasti. E' uno spezia che cambia molto, che cambia spesso, che vuole fare molto bene e provare ad andare in Serie A già quando c'ero io due anni fa. Ma per cui è uno spezia che sarà combattivo e sarà una partita difficile. Loro sin dall'inizio del campionato comunque hanno sempre provato a giocare, sempre provano a fare la partita. Poi a volte ci riescono, a volte meno. Però è una squadra tecnicamente di valore che prova a giocare e cerca di avere la partita in pugno, cerca di fare lei la partita. E' ovvio che il Carpi della partita precedente contro di noi ha trovato il gol subito e ci sta pure che si sia difeso e abbia creato delle barricate dietro. Purtroppo il calcio è questo, cioè alla fine ha ragione il Carpi perché ha portato a casa i tre punti, nonostante abbia fatto una sola azione. Con lo spezia sarà una partita differente perché comunque secondo me anche se dovessero andare in vantaggio e fare gol, loro continuerebbero a giocare, comunque continuerebbero a cercare le loro giocate. Questo può essere un vantaggio per noi perché noi comunque abbiamo bisogno di una squadra che gioca e chiunque ha bisogno di una squadra che gioca perché giocare contro chi si difende in undici nella propria area fa sempre fatica. Non so se Catellani e Basta, comunque il collettivo sinceramente mi fanno più paura i vari singoli. Ebagua, Ardemagni, Catellani. Di Catellani ho un brutto ricordo nel senso che già mi ha fatto uno o due gol, degli altri non ricordo. Per cui, però sì, più i singoli del collettivo, hanno un reparto offensivo comunque importante e bisogna fare attenzione. Tecnicamente loro davanti sono forti, possono fare la differenza in qualsiasi momento. Tutti i giocatori che hanno, bene o male.